benvenuti tutti sulla pagina sul flowing health il canale youtube vi ringrazio la maggior parte dei video sono infatti in inglese perché io sono a londra anche se sono italiano sono qui da molti anni però sto iniziando a mettere più video anche in italiano dunque guardate sulla playlist c'è ci sono parecchi video in italiano e devo aggiungerne ancora di più per spiegare un po io da 35 anni studio il qigong con un insegnante qui a londra e sarebbe una forma diciamo in inglese self healing dunque una forma che l'energia ci aiuta a curare noi stessi a diciamo ottimizzare anche il sistema immunitario a essere più sani a dormire meglio a migliorare la di la gestione avere migliori relazioni con noi stessi e anche con altri dunque molti vantaggi sulla pratica del qigong e lavoro in gruppi online per adesso c'è una classe ogni lunedì sera in inglese alle 7 ora di londra e lavoro anche diciamo personalmente con con persone online sia in inghilterra che in italia dunque contattatemi c'è il sito sotto se siete interessati spero che troverete interessante questo canale di youtube cliccate su subscribe così nel futuro vedrete ancora più video in italiano vi ringrazio e state bene passate un buon anno 2022 ciao a tutti